Venerdì 21 settembre ben rintrovati con l'informazione del nostro telegiornale. ASM Vercelli informa che attraverso personale operativo interno e avvalendosi anche di società esterne specializzate sta realizzando una campagna di rinnovo massivo dei contrattori del gas uso domestico che saranno sostituiti con una nuova tipologia di misuratore integrato elettronico. La sostituzione è completamente gratuita per il cliente e permetterà allo stesso di controllare con maggiore facilità i propri consumi e in futuro la telelettura degli stessi da remoto. Il personale incaricato dell'attività sarà dotato di cartellino di riconoscimento. Con adeguato preavviso telefonico o mediante la fissione di cartello verrà comunicato la data effettiva dell'intervento stesso. Il piano di sostituzione 2018-2019 prevede il coinvolgimento di circa 6.000 utenti residenti a Vercelli e sarà concentrato inizialmente nei seguenti quartieri Bigliemme, Bellaria, Porta Torino, Concordia. Domani e domenica sono le giornate di Santi A. La cittadina vercellese festeggia il patrono Sant'Ignazio. Il parco Don Stefano Bedello ci presenta agli eventi del weekend di festa. Giovanni Paolo II canonizzando questo nostro concittadino aveva deciso che la festa liturgica fosse il 22 settembre. Quindi noi sabato 22 celebreremo la sua memoria, la sua santità. Lo faremo in un momento liturgico, in una celebrazione eucaristica che è presieduta da padre Mario Durando, frate Capuccino, confratello del nostro Sant'Ignazio. Questa messa sarà alle 20.45 qui nella collegiata di Sant'Agata e sarà animata dal Coro Elicchia di Milano, un coro prestigioso che ha dato la sua disponibilità a essere presente. Dopo l'animazione della messa, ecco, questo coro si soffermerà per un breve momento di concerto. Ma molto importante è anche il programma più ludico che viene abbinato ogni anno alla festa di Sant'Ignazio. Nel nostro oratorio di San Gratto, già a partire dalla mattina di sabato 22 e per tutta la giornata e per tutta la domenica, sarà a disposizione un grande parco giochi, un parco gonfiabile. E insieme a questa attrazione nel pomeriggio di domenica ci saranno anche altri motivi di festa, di gioia per tutti i giovani che vorranno parteciparvi. Dico tutti, proprio tutti e soprattutto gratuitamente. Ringrazio per queste iniziative l'Associazione Amici di Sant'Ignazio, ma anche l'Associazione San Gratto, i volontari del nostro oratorio, insieme ai nostri animatori. Vogliamo vivere insieme questa festa, davvero come comunità, per poter dire a tutti che la santità è bella, la santità è possibile. E anche a Santià, le tracce che ci ha lasciato Sant'Ignazio sono ancora percorribili, sono ancora possibili. Grazie. Domani alle 17, nella prima corte del castello di Casale Monferrato, verrà inaugurata la sede del sito unnesco Langhe Roere Monferrato, zona 6. Si tratta di uno sportello aperto un giorno alla settimana in via sperimentale, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, alla presenza del direttore Roberto Cerrato, in grado di mettere in collegamento diretto l'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roere Monferrato, con sindaci e tecnici del territorio, ma anche con turisti. Questa funzione di raccordo verrà svolta con particolare attenzione alla zona 6 del sito, il Monferrato degli Inferno, Il luogo prescelto è il castello di Casale Monferrato, per il suo luogo riconosciuto di Porta del Monferrato. Un gol per la pediatria è un progetto che ha come obiettivo di dotare il reparto pediatria dell'ospedale di Vercelli delle apparecchiature e delle risorse necessarie per coprire le esigenze di tutto il territorio. L'evento principale sarà la partita con la Nazionale Cantanti, che si disputerà allo stadio Silvio Piola di Vercelli domenica 28 ottobre. In cabina di regia, tre associazioni, Maschere per sempre, Alberto Dalmasso Onlus e Biud 10 Onlus. Sono macchinari importanti che aiuteranno davvero la pediatria a crescere perché noi vogliamo, l'avevo già detto in un'altra occasione, cerchiamo di portare la pediatria a un livello, fare in modo che la pediatria di Vercelli sia a un livello tale che non ci sia sempre bisogno di dover ricorrere, ma porti il bimbo Novara, porti il bimbo Torino, insomma, non è che deve diventare per forza di cose un gaslini, tanto per intenderci, ma dovrà essere un reparto all'avanguardia per quanto riguarda la nostra zona. 70.000 euro sono importanti, sono un obiettivo non facile da raggiungere, diciamo che forse collaborando con le onze, mettendo in piedi questi eventi diventa una cosa un po' più snella, come dicevi giustamente tu, quando si passa attraverso il pubblico diventa un attimino più complicato per problemi di burocrazia, ecco, deliberare determinate stanziere, determinate cifre, anche se poi alla fine per il pubblico 70.000 euro alla fine non è che sono una gran cosa, però comunque per noi assolutamente sì e vedremo di raggiungere in ogni caso questo obiettivo. Presentata nei giorni scorsi la squadra dell'amatori Hockey Vercelli che affronterà dal 6 ottobre il campionato di Serie A1. E il nuovo staff della nostra squadra su cui punteremo tutto l'anno, sia in termini di tifoseria che di supporto massimo. Sarà capitanata dal loro responsabile tecnico, Sergio Silva, campione del mondo, portoghese, dai tre stranieri che sono venuti a rinforzare tutte le nostre linee e soprattutto anche dai nuovi giovani e dalle conferme del passato come quelle di Raffaelli e di Milani. Quindi è stata una cornice molto bella anche quella di essere ospitati qui al Teatro Civico e la partecipazione è stata massima. Ringrazio di nuovo tutti per essere venuti a questa serata. Bene, per questa settimana, per l'informazione è tutto, l'appuntamento come di consueto a lunedì. Grazie. 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 Grazie.